Carsica, festival dei suoni tra le rocce, farà tappa alla terza, giovedì 22 agosto in piazza Plebiscito, a partire dalle ore 21, con la partecipazione di Mario Tozzi. Geologo e noto conduttore televisivo, autore di pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Primo ricercatore presso il CNR, è membro del Consiglio Scientifico del WWF e autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali. Esperto dell'evoluzione geologica del Mediterraneo Centro-Orientale, Tozzi racconterà la terra delle gravine e le sue peculiarità in una conferenza scenica di fortissimo impatto multimediale. Ingresso gratuito! Carsica Festival, ovvero musica, scienze, percorsi ecosostenibili nei paesaggi naturalistici, scenografie rappresentative della provincia ionica, spettacoli. Vi aspettiamo numerosi alla terza, non mancate!